Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto con un nuovo praticissimo videocorso, una nuova puntata in realtà all'interno della mia rubrica playlist dedicata alla Digital, un insieme meraviglioso di applicazioni online gratuite a base di software libero veramente valevoli per qualsiasi necessità scolastica ed educativa. Pesco questa volta, lo sapete ormai il sito di riferimento ladigitale.dev, dal cilindro di La Digital, un'applicazione bellissima il cui nome è DigiScreen. Scorro ora la home page di La Digital e andiamo a vedere insieme dove si trova la DigiScreen. Eccoci qua, un istante di silenzio in cui ho scorso con voi la pagina web, DigiScreen, un clic su Utilise, che sapete ormai vale come ok, e già sarete solleticati da ciò che stiamo vedendo. Non mi accontento, clicco sul pulsante in basso a destra con le due frecce che si respingono, vado a schermo intero ed immaginate la bellezza di avere qualsiasi ordine di scuola, ma in realtà direi dalla scuola dell'infanzia sino almeno alla secondaria di primo grado, e vi dicevo di immaginare una applicazione da mettere a schermo intero con tutte quelle funzionalità tipo che ci permettano, richiamandole rapidamente, di coinvolgere, di ingaggiare i nostri allievi. Volete subito un esempio? Barra degli strumenti in fondo, mi permetto di suggerirvi di cercare qui sul mio canale anche il videocorso su Classroom Screen, un'altra bellissima risorsa, e guardate dunque, io mi trovo a dover interrogare o a dover sorteggiare un argomento. Bene, clicco dadi. Desidero due dadi, ho cliccato sulla freccia, clicco su conferma, clicco su lancia, bene, a questo punto venga l'undici e ho sorteggiato, con tanto di effetto sonoro del lancio dei dadi, l'alunno da interrogare. Tasto sinistro premuto, ho sposto con le mie dita questo box ed immaginate appunto di utilizzare questa risorsa su una limo, su un monitor interattivo, insomma molte scuole sono state finanziate dall'avviso pubblico Digital Board, che ha permesso di avere i monitors interattivi nelle aule, ed allora poi posso anche porre un quesito agli alunni e il quesito lo pongo tracciando una figura, quindi clicco su disegno, vado a scegliere il colore rosso, in questo caso vado a tracciare un simbolo, nelle mie intenzioni potrebbe essere una sedia, una linea stilizzata e quant'altro, e voglio dare cinque secondi agli alunni affinché rispondano alla domanda appena posta. Ecco, i cinque secondi, come li do? Bene, clicco sulla clessidra, conto alla rovescia, vi ricordo che sposto con il tasto sinistro premuto con le dita questi blocchi, vado su secondi, clicco sino ad arrivare a cinque, non mi interessa avere il box delle ore, mentre mi interesserebbe laddove si trattasse di una interrogazione, di una verifica soprattutto, perché allora darei un'ora di tempo a disposizione e poi si consegna. Ma a noi bastano cinque secondi e clicchiamo conferma, clicchiamo avvia, effetto sonoro, tempo scaduto. Ed ecco che, come potete osservare, è bellissimo sapere di avere, a patto di disporre di un accesso alla rete, è perché un'applicazione online, un insieme di meravigliosi servizi e di apps a nostra disposizione. Vi ho ingolosito? Non è finita qui. Clicco sulla X, chiudo questi riquadri, attenti bene, clicco su nuvola e alcune, alcuni di voi alla parola nuvola avranno già capito cosa stiamo per fare. Tecnica della word cloud, nuvola di parole tematica, volendo si fa tutto da digi screen, parole, didattica, guardate bene, sto cliccando nei riquadri, tasto sinistro, digi screen, divertimento e ancora clic, ma perché no, apprendimento e a didattica segno dimensioni 3 per la parola. guardate, avete osservato la semplicità della operazione, clicco su apri, ok, ed abbiamo una word cloud realizzata in automatico da digi screen, un clic su conferma ed ecco qui la nostra nuvola di parole pronta all'interno del nostro schermo. Vi mostro ancora che in basso a destra abbiamo l'ingranaggio impostazioni che ci permette, come possiamo vedere, di esportare questa nostra schermata per archiviare il lavoro che abbiamo svolto. Insomma, che dirvi, una risorsa versatile, divertente, ingaggiante per i nostri alunni, tutta da provare? Ma perché no, non può essere divertente anche d'estate in un modulo PON o in un contesto extrascolastico per divertirci digitalmente con i più piccoli? Dai, io dico di sì, fatemelo sapere, scrivetemi tramite il canale o tramite i miei account social o andando su www.andreacartotto.blog o andreacartotto.education. Grazie a tutti e a tutte per la vostra attenzione e ci vediamo, ve lo dico sin d'ora, nel nostro prossimo videocorso. Ciao!